E corsa contro il tempo sull'E45. L'obiettivo resta la giornata di venerdì, ma tutto dipenderà dalla procura di Arezzo. Un sopralluogo è stato fatto anche in mattinata. Si arriverà all'ok, la strada potrà tornare ad essere transitabile solo per i veicoli leggeri, peso massimo 3 tonnellate e mezzo. Non sarà un processo facile, visti gli effetti prodotti da un provvedimento che ha messo tutti con le spalle al muro. Come giustamente ha ribadito nei giorni scorsi il sindaco di Pieve Santo Stefano Bragagni, quello che è accaduto è stato uno shock per tutti. Dell'importanza dell'E45 se ne sono accorti, ha detto il primo cittadino pievano, quando questa è stata chiusa. Due anni fa addirittura ci fu un titolo in un giornale del Nord che la definì la strada dei mille cantieri. I cento chilometri di interruzioni continue che hanno confermato come incuria, degrado e menefreghismo sono state le cartine tornasole di un andazzo che deve essere cambiato. Ma l'occasione è utile anche per sanare una volta per tutte l'altro grande problema parallelo, ovvero le sorti della vecchia Tiberina Trebis, che deve essere recuperata prima possibile. C'è chi ha invocato anche l'intervento dell'esercito. Non si può certo perdere tempo, il segmento tra Val Savignone e la Romagna è indispensabile per dare un'alternativa proprio all'E45.